Che entri io con un cesto poco in porta, oddio, è ora di cena, eh, ma soprattutto la sorpresa è che c'è la mamma di Mario Assunta! Priemiti, priemiti! Maestra, faccia carrabba, faccia carrabba! Un bocca al lupo per Mario Assunta! Ma è buono, ma è bella! Un bocca al lupo per Mario Assunta! Ah, che bella! Signora, tengo io il peso, buonasera! Nome? Teresa! Teresa, Teresa, la vispa, Teresa abbiamo messo anche l'arpa, il suo onore, stasera, vederla anche nelle visage sarebbe meglio se si girasse tournée sulle visage, perfetto, la mamma, la figlia! Allora, signora, lei è arrivata da Formia e non ha mani vuote, perché qua dentro cosa ha portato di buono? Il famoso piatto antico formiano, gli utieste si chiama! Gli utieste che avevamo sul tabellone, posso guardare? Sì, sì! Posso controllare per primo quale onore? È una specie di pasta al forno! La specie di pasta al forno, già ce ne ha parlato un po', Mario Assunta, lei Teresa invece ha dato spazio più ai fatti che alle parole e quindi non so quale macchina... Perché c'è la riga, è profumatissima! Ah, qua c'è, ecco, guarda, se sono avventati da sopra col braccio di Guido, la signora, pensate, è arrivata a piedi, da Formia, con lo utieste così, come il tedoforo alle Olimpiadi con la torcia, la signora, eccolo qua, lo so, adesso ci sono i piattini e le forchette! Ma che buona! Stai nervosa? Eh? Signora, me li scusi, è un pubblico alido! È un pubblico che sa dare, ma soprattutto è un pubblico che sa prendere! E quindi... Ci sono anche i piattini! Allora... Cavalline! La mamma mi si è sistemata là! Per favore, cavalline, mi fate delle piccole fettine voi che avete fatto l'alberghiero? Non è vero, però fingete, fate e date ai meno facinorosi, sempre servite con grande... Cadetta, signora? Con l'arpa in scena da sopra, con l'arpa in scena da sopra, passa l'ala! Eppure questo programma che va in onda da Bolzano, tutte le sere! Allora, piccolissime, piccolissime dosi di classe, come se tagliaste con l'arpa, ecco, sì, così, torniamo dalla mamma e dalla figlia! L'avete visto che bella mamma che ho? Ma... Eh, beh... No, vabbè... No, vabbè, no! Cioè, con le mani con cui dovrebbero battere, scandire gli applausi, siamo preparati il bassoio! Ma come buon appetito! Allora, adesso torno, ci sono anche sempre portati dalla gentilissima mamma, Teresa, da mamma di Maria Assunta, ci sono i fichi, ci sono le giugiole, ci sono... Vabbè, c'è melograno, uva, ci sono le carrube, addirittura, ecco, quelle le potete lanciate, le possono sgranocchiare... Flavio, Flavio!